Ciao e benvenuti ad un nuovo video, già so che mi divertirò a fare questo video e spero che anche tu ti divertirai a guardarlo. Quindi se non sei ancora iscritto al canale youtube delle leggi della magia fallo subito e se il video ti piace o ti piacerà regalaci un like. Detto questo andiamo a scoprire la top 3 dei tarocchi più particolari. Ho deciso di fare questa classifica anche sulle vostre richieste che spesso mi chiedete in base ai miei gusti quali sono i tarocchi che preferisco, quale consiglio eccetera. Quindi inizierò un ciclo di video, proprio ad iniziare dai tarocchi particolari in cui vi mostro il mio podio. Allora, al terzo posto dei tarocchi particolari che mi piacciono tanto, premesso che ce ne sono tantissimi però dalla mia insomma collezione ne ho dovuto scegliere alcuni, ho scelto i tarocchi degli arcangeli di Dorin Virtu. Mi piacciono perché sono innanzitutto chiacchieroni, quando uso questi tarocchi per divinare mi ci trovo molto bene. Sono particolari, le ho messi una categoria particolare perché Dorin Virtu ha deciso di cambiare determinate parole, vediamo subito. L'appeso è la prospettiva, per esempio il diavolo è la decisione e seppur in un primo momento mi aveva fatto strano questa cosa perché studiando i tarocchi da tanti anni sono legata comunque ai nomi originali, alla fine invece mi trovo bene, quando li uso devo dire che questi cambiamenti hanno un loro significato, la suprema sacerdote ci sta benissimo, anche meglio della papessa se posso dire la mia, e poi abbiamo la soluzione nella carta della temperanza, insomma delle variazioni sul tema che mi sono piaciute. E l'altra variazione è anche nel fatto che non usa coppe, spade, bastoni, denari, ma usa degli arcangeli, chiaramente usa Michele, Raffaele, Gabriele e Ariel. Quindi diciamo che sono un po' particolari, però poi quando li andate a usare vi posso garantire che almeno con me funzionano e quindi si sono guadagnati il terzo posto del mio podio, medaglia di bronzo. Andiamo a vedere invece la medaglia d'argento a chi la diamo, vabbè forse meriterebbe anche qualcosa in più, sicuramente perché sono un vero capolavoro e sono i tarocchi zen di Osho. Un mazzo bellissimo, ci ho fatto anche il video tutorial, anche su quello degli arcangeli, quindi poi se volete conoscere meglio ogni carta potete andare ai video tutorial sempre sul mio canale, vi trovate. Questi sono particolarissimi, c'è anche qua il libretto di accompagno e tutto quanto, non usa, Osho non usa l'escursus tipico, ma altri termini. Sono davvero bellissimi e la cosa che mi piace molto è che fanno riferimento a una filosofia, chiaramente, e quando ci si divina hanno delle vere e proprie illuminazioni, delle aperture mentali molto belle. E per questo, a mio gusto, prendono il secondo posto e quindi la medaglia d'argento, la vincono i tarocchi zen di Osho. Andiamo a vedere chi si guadagna il mio personale oro, quindi poi siete invitati tutti a farmi la vostra top 3 dei tarocchi particolari e scrivetela nei commenti, sono ben accetti. E' un modo più che altro per confrontarci, poi ognuno ha i suoi gusti, ha un video, come dire, divertente per scambiarci delle opinioni. Comunque, il primo posto, quindi medaglia d'oro la prendono, i tarocchi delle idee. Forse già solo per questa immagine per me possono prendere l'oro. Adoro questi tarocchi, li ho da tanti anni, li uso, anche il mondo è bellissimo, sono tutta il femminile, sono tutte idee. Anche il dietro è molto bello, con il simbolo della triplice dea. E dal matto al mondo, e tutti anche gli arcani minori, sono tutte idee, quindi non ci sono figure, diciamo, maschili, seppur poi nell'energia possono restare maschili determinate carte, sono quindi un mazzo tutto con le divinità. Quindi secondo me ci sta all'utile e al dilettevole, quindi sia divinare che ricordare, riconoscere, rimembrare le idee, che poi con la loro saggezza chiaramente ampliano il significato dei tarocchi. E queste vanno nei tarocchi particolari, nella mia top 3 si guadagnano l'oro. Quindi, eccola qua, al terzo posto medaglia d'argento ha i tarocchi degli arcangeli, secondo posto medaglia, no, terzo posto medaglia di bronzo, i tarocchi degli arcangeli, secondo posto argento per i tarocchi di osso e oro per i tarocchi delle idee, dello scarabbeo. Scrivi nei commenti la tua top 3 di tarocchi particolari, sarò ben lieta di leggerle. Se il video ti è piaciuto regalaci un like, se hai dei suggerimenti per altri video sono bene accetti e se non c'è scritto al canale YouTube fallo subito. Ciao e alla prossima classifica!